ciao raga come va spero tutto bene oggi mette finiremo finalmente l'ovile e ben inizieremo a costruire anche la ferrovia ci collegherà a tutte le varie farm partendo dalla nostra casa vabbè vi lascio al video ciao ciao raga allora eccoci qua allora dobbiamo craftare tutto il vetro serve 8 di vetro più o meno 8 il minimo per ogni tipo di colore quindi divertiamoci un pochettino e ci metteremo a craftare un po tutti i colorini 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 allora mi mancherà ovviamente manca il marrone come non può mancare come non può non mancare il marrone c'è ma scusatemi il bianco anche il bianco eccolo qua ok vetro messo cominciamo a mettere il vetro oggi divertiremo a mettere le pecore dentro la lì proprio un divertimento raga pazzesco pazzesco e poi da come avete visto dall'intro combinato una bella cosa che poi vedrete presto vedete presto allora quasi serve il rosa ok eccolo il rosè perfettissimo comunque non è male è dovuta sterbe sui buchi ok questo è un altro conto ok adesso mettiamo il giallo perfettissimo mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale che è importante e di condividere ok perfettissimo arangione arangione qua c'entra questo perfetto e anche di qua perfetto mamma mia mamma mia ed infine il nero il nero che è importante anche il nero non facciamo discriminato vabbè avete capito insomma oh ah e qua manco eh qua ok 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 non è male eh è fighissimo ora faccio vedere che ho fatto dall'intro vabbè da come vedete ho fatto il tetto e qua ho messo queste cose qua guardate qua tutto il grano che ci avevo e qua ovviamente sorpresa sorpresina ci riesco a scendere ci riesco a scendere ok ci sono riuscito ci sono riuscito vai ci sono riuscito sono fiero di me sono fiero di me ok perfetto 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 allora possiamo tutto sto vetro che andiamo a prendere le pecorine ok iniziamo a prendere le pecorelle 1 2 andia andia non c'entrano mamma mia lo sapevo io merita dei fiori no cioè merita dei cosi no allora esci un'altra un'altra che esce oh esci esci e chiudi qua e vieni pure te andiamo andiamo signorine andiamo andiamo divertiamoci a mettere tutte le pecore dentro dai su 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 non fatele bricconcello ok non fatele bricconcelle ok vai entrate qua dentro su bravissime bravissime grazie mille e voi state in trappa perfetto passiamo alle prossime ok raga ho portato le pecore dentro ho farmato pure qualche livello di xp e qua ho fatto insomma all'inizio della della metro vedete qua ho fatto l'inizio qua che poi ci porterà fino alla home e ci collegherà anche alla farm dei drone diciamo allora iniziamo qua anzi no andiamo a centrarci un picco perché penso che ci servirà si la palla va bene questa andiamo a centrarci un bel picco naus però prima dobbiamo andare a prendere i diamanti alla vecchia la vecchia home importante importante piano 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 senza andate a fretta poi dite mai cosa ne pensate la home della metro cioè 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 di me cosa ne pensate allora prendiamo questi diamanti diamanti presi facciamoci due picconi e andiamo a scontrarci a tornare a quanto dobbiamo camminare ragazzi da mamma mia qua non lo ho col pezzo di collegarlo comunque perché tanto useremo i ponti dai Saluto con la metro Ma che cacchio fam Allora Vediamoci al tasto piccone Vediamo un po' cosa ne esce fuori Allora l'apis Vabbè ne abbiamo 30 Vediamo un po' Vediamo un po' Efficienza Unbreaking 3 No solo unbreaking 3 Ma se in fieta è schifoso Un altro solo unbreaking 3 No dai Qua che abbiamo Efficienza Unbreaking Allora vediamo qua che esce Power 4 Intentiamoci power 1 Il touch No dai che schifo Incentiamoci un altro libero Incentiamoci il piccone Adesso è efficienza 3 No è efficienza 3 Unbreaking 3 Dai va bene dai Efficienza 3 è efficienza 4 Dai va bene così Va bene così Allora mettiamo tutta roba dentro Questo 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 e questo Le frecce no Ok possiamo andare Possiamo andare Allora mangiiamoci tutto Ok perfetto E torniamo Dalle pecorine Dalle pecorine che sono Mi hanno fatto parecchio Donnare da come avete visto È stato parecchio Parecchio dura Sinceramente Ok eccoci qua Allora Iniziamo come fare Tipo la scala Che ci porta Nella metro Allora lasciamo così Madonna questa pala Veramente è troppo Putente Putente Sta pala Allora facciamo così No Dobbiamo Come facciamo Facciamo che prima Facciamo un bel tunnel Sì facciamo prima Un bel tunnel Cacchio la caverna Oh ca Questa non era prevista Questa non era prevista Ok Lasciamo così E scaviamo un pochettino Allora Vabbè Ci vorrà tempo Ragà Ma vi giuro Vi giuro Ringgiurello Che virà una cosa Parecchio parecchio figa Ok Ma io adesso Come risalgo No non devo risalire Perché devo cominciare A fare la scala Quindi facciamo così E cominciamo a fare La scaletta Vai così La maia Penso che farò Tipo Boh Due doppie ceste Di cobblestone Una cosa del genere Perché dobbiamo scavare Non dico tanto De più De più Allora Quanto manca Mi scusi Sto scavando Da tipo tre ore Ok No non è vero Vabbè scherzo 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 Ok Comunque era ora E finivamo La bello vita È venuto pure Che più figo Poi come ditemi Cosa ne pensate Ne pensate Ok Vedo la terra Vedo la terra Ok Tu vieni qua sopra E tu Scava qua sopra Vai così Ma si Vai Perfetto Stiamo così Così Adesso riattappiamo Perché non ci serve E qua dobbiamo bugare Un pochettino Perché non voglio Sbattere il cervelletto Ok Già è poco Poi lo sbatto pure Calma Finito Ok Rompiamo qua E ancora qua Perfetto Questo qua Ok Perfetto Allora la metro La facciamo fermare Esattamente qua Entriamo di qualche blocchetto Ok Perfetto La metro la faremo Fermare qua Non c'è un pulsante No ma facciamocelo subito Qualche pulsantino Perché ci servirà Su servirà il pulsantino Anzi ce ne serviranno Esattamente tre Esattamente tre Si Eh ma io ho finito Tutte le Ah no C'ho questo Il burs Allora Facciamoci qualche pulsante Ma si Facciamoci Nel file Facciamoci Nel 11 Giusto qualche Giusto qualche Pulsantino All Allora Mettiamocelo qua Così ci ricordiamo Che la metro Deve finire qui Perfetto Anzi farei pure Anche una cosa Farei Allora Farei tipo così No E poi ora il pulsantino Andrà un blocco Più Esattamente Il pulsantino Lo metteremo tipo qua Così E il pulsantino Andrà qua sopra Perfetto Qua ci serviranno Delle scale Ok Queste scale Le metteremo Tipo così Eh Così già non è male Raga Così già non è male Allora Facciamo anche Così Così Poi ci mettiamo Questo blocco qua Ma giusto così Per il momento Raga Anzi no Leviamo pure per il momento Perché fa proprio schifo Sto blocco Ma come l'hanno inventato Che brutto Facciamo per ora Facciamo una cosa così Dai Poi aggiusteremo Perché tanto Dobbiamo cambiare Leggermente Un po' De blocchi Allora qua Dobbiamo scavare 3x3 Perché almeno Facciamo anche Il soffitto Tutte cose Perfettissimo Ok E ora ci divertiremo A scavare Un bel po' Un bel po' Voi intanto Sostenermi Con un bel pollice E condividete Il video Mi raccomando Che è importante E qua Niente ragazzi Ci vediamo A metro Cioè a metro Completato Vabbè Il buco completato Un po' che parlo L'avete capito Nella caverna Insomma Avete capito Ok raga Ho fatto anche La discesa qua Con i due pulsanti Uno ci porta La farm di drunet E quest'altro qua Ci porta La farm di pecore Infatti Sono pure i moriti De fame E spero Che dentro Alla nostra casa Ci abbiamo un po' Di cibo Ma non credo Eh Ding Ding Ah qui ho allargato Raga Ho allargato qua Ho allargato anche qua sotto Mi sono dato un po' Da fata Come vedete Guarda qua C'è Cue 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 Allora Il cibo Cibo Abbiamo questo Abbiamo quest'altro E dobbiamo farci Una crafting table Una fornace Perché la fornace Io qua non ce l'ho Esattamente Allora facciamoci Una bella Una bella Shest Una bella Fornacella E mettiamoci a cuocere La carne La carne Allora Carne qua Per coal Qua Ok Perfetto Aspettiamo il cibo Ok Il cibo pronto Per fortuna Ok Finalmente posso mangiare Ok Adesso dobbiamo andare A prendere Il ferro Il gold Un bel po' Di redstone E basta Gold Iron Redstone E un pochettino Di legno Ma legno Penso Di averlo Non lo so Se no dobbiamo andare A farmare Ok Scendiamo qua Ci facciamo un po' Di male Aia Aia Dolore 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 Ok Mamma mia Questa zona Finalmente abbiamo Mamma mia Finalmente abbiamo Creato quel cacchio Di La cavolo Di metro Mamma mia Mamma mia Ok Il gold Redstone Un altro Po' De ferro Un altro Po' De redstone Ok E altro gold Ok Perfetto Madonna Ste mucche Le odio Le odio Ste mucche Allora Crafting table Ce la portiamo Appresso E basta Raga Che ci serve Non ci serve Nient'altro Dai Possiamo anche Ritornare Anzi no Ci mettiamo qui A craftarle Ok Mettiamoci qua Crafting table Gold Ah no Ci servono Gli stick Gli stick Ah ok C'ho il legno qua Me lo so portato Ok Perfetto Perfetto Allora Facciamo così Ce ne serviranno Tante Ma no Così sono Troppo poche Traffettiamoci l'altro Tantanto l'iron Ce l'abbiamo Quindi insomma Allora Se non ricordo male Così Facciamo così E così Perfetto Eh non credo che bastino Non credo proprio Non credo proprio Ne facciamo un altro po' Perfettissimo Ok Queste penso che bastano Allora qua Gold Vediamo un po' Come si faceva Ok Sessanta Non credo che bastano Ne facciamo un po' Di più tanto L'oro Ce l'abbiamo Ok Quanti stacchi abbiamo fatto Due stack E possiamo fare altre Vai Altre sei Perfetto Motorci di redstone 23 23 Non credo che bastino Ne facciamo altre Ok raga Qua ho già cominciato A mettere le rotaglie Qua probabilmente Ho messo una Di queste qua Di queste Come cacchio Si chiamano Di queste power Ed ho messo Ogni 4 Ho deciso Di mettere una power Ed una qua Vedi Ogni 4 Metteremo una power Ed Qua non ho messo più di uno Perché ci ha da aiutare A salire Insomma Anche qui E anche qua Non ho messo altre Qua sto continuando Quindi 1 2 3 E qua 1 2 3 E qua Aug 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 Allora 1 2 Ora 2 Ok Quella era un po' piuttosto 1 2 3 4 1 2 3 4 Vi ricordo E questa relice Porta alla farm Di pecore Quest'altra Alla farm Di drone Alla farm Di drone Che è importante Anche quella Ok Poi 1 2 3 4 E qua Ne metteremo altre Questo sbaglio Forse quello L'ho sbagliato Ok Poi qua ci metteremo Dicevo Qua ci metteremo Le slab Capito Per differenziare Insomma Per staccare Le rail Ok Per esempio Tipo così Guardate qua Allora Cominciamo Allora Vi faccio vedere Questo pezzo qua Che ho fatto Così vedrete bene Poi Così faccio Il lavoro Compiuto Direttamente Allora Tu inizi da qua No Iniziamo da qua Giusto Iniziamo da qua Ci graffiamo Un paio Di queste 54 Basta Perfettissimo Ok E qua Faremo così Perfetto Guardate qua Viene proprio Una figata Secondo me Perfettissimo Ok Ok appunto Ho fatto L'argotria Avete capito Perché Avete capito Il perché Ok Poi c'è lo scrivono Ovviamente Che rompe le scatole Già lo sento Lo sento Di lontananza Perfetto Così Questa parte Questa parte Che viene meno Figa E forse Qua ci metto Direttamente Le scale Dovrei avere Sì C'erano 24 Poi ci metteremo Le scale Anzi Qua no Ma qua Sì Qua le scale Secondo me È molto Molto meglio Perfetto Perfetto E perfetto Ancora Perfetto Ma quante so Ma quante Poi qui Ci metteremo Le slab Madò che casino Che c'è dentro Sto inventario Buttiamo qualcosa Buttiamo Che possiamo Buttare Una diorite Ok Buttiamo la diorite Ok Qua Continui così Scala 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 Slab 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 Perfetto E praticamente Viene così Raga Viene una cosa Veramente Veramente Carina Qua diremo Ovviamente Un vostro Pensiero Ed è qua Bene così Ah Poi faremo Una bella Prova Insomma Ok Qua è sbagliato Per esempio Qua dobbiamo Mettere Un gradino Ok Qua Così Ok Perfetto Qua Un e due Qua due Questo Qua Metteremo E qua Dobbiamo mettere Per forza Queste E cacchio Stai a fare Ok Perfetto E adesso Mi divertirò A completare Insomma Ok Eccoci qua Raga Quasi finito Manca giustamente Queste qua E poi Do metti Le slab Qua in mezzo Da sa Trovate Già l'ho fatto E poi faremo Un attimo La prova La prova Non bisogna Farla No Perché se poi Non funziona Che cacchio Fanno C'è Io non so Ma non credo Comunque Credo che funzioni Che cacchio Dei colleghi Qua E anche tu Scusi Mi scusi Lei Ok Facciamo così Sì E qua Cominciamo a mettere Anche le slabine Cominciando da qua giù E chiamano tutte Le slab Ok Queste le power Già l'ho Piazzate Perché devo andare A rigraftarle Leggermente Qualcuna Ho finito Purtroppo Le cose vanno Finite Le cose In grandi Le cose piccole Non ci piacciono Ditelo pure voi Insomma Ashtray Piccolo No Ok Facciamo così Già hanno stack Mamma mia Era mezzo stack O non stack Non lo so Non mi ricordo Forse erano stack Abbiamo Mamma mia Vabbè 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 Allora Continuiamo qui Perfetto Anche se qua Metterei anche Qualche altra luce Dobbiamo craftare Anche altre torce Perché le ho finite Proprio Le ho finite Proprio Perfetto Queste le leviamo Dove sono le power Eccoli qua Powered Powered Cobblestone 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 Ok basta Facciamo i seri Lasciamo i seri Ok Qua l'ho messo Vedi come sopra i cartelli Zombie e casa Zombie e casa Ok qua facciamo così Tanto per Ok Ok qua rimettiamo questa E finiamo Tutto 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 Ok raga Completato Adesso Allora facciamo la prova Al giro più Oppure facciamo E facciamo che andiamo Dagli zombie Ok mettiamoci qua ��침 Tutto 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 Offri Tutto 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 Siamo arrivati Perfetto E siamo arrivati a casa raga Allora il prossimo episodio Dobbiamo fare insomma la parte esteriore Della mia insomma questa parte qua Dobbiamo farla e anche all'altra Due parti Comunque ravi dire dopo 5 ore Di registrazione è tutto Io vi voglio bene E le mettete un bel pollice In su raga importante Da questa fatica Assurda absurda Vi voglio bene ciao 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 Ragazzotti Il video è finito Mi raccomando guardatevi video random E video consigliati E iscrivetevi Mi raccomando Se vi siete già visti questi video Ci vediamo domani con un bellissimo video Ciao ciao Un bacione Ciao 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 c'è 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 Ciao c'è